ciao a tutti ecco un nuovo video oggi video all spero non mediate scusate la faccia ma ho un mal di test allucinante fa anche abbastanza fede di me anche un po di mal di stomaco quindi sono in perfetta forma in più ho dovuto accorciare le unghie perché mi sono rotte due pollici come vedete tutto pareggiare tutte erano belle tipo mandorla la mia sfiga ho ricevuto l'ordine chicco ma lo faccio vedere per ultimo iniziamo dall'occasione una cosa non so al prezzo perché è un regalo me l'ha fatta la mia nonna mi è arrivato questi scarpini qui molto belline troppo che è troppo carino con uno stivaletto a me la farà abbastanza alto le lastre le fa questo non so il prezzo perché ovviamente me l'hanno regalata quindi non saprete il prezzo ok poi ho comprato un po dei cinesi e qualcosina anche l'attività 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 ho preso ho fatto il colore che io uso questo qui della l'oreal excellence ho fatto il colore per evitare che di lavaggio in lavaggio si scaricasse ho preso questo l'oreal veve color veve l'avevo già provato quando ero ragazzetta mi piaceva i basi della l'oreal mi piacciono per questo veniva però dico subito 2 e 99 poi sconti la parte di mano sempre da tigota così ce lo togliamo ho comprato sempre excellent cream però per la mia mamma a 8,95 lei usa castano scuro io uso nero perché i miei capelli castano scuro gli fa un baffo sembra sempre troppo chiaro il nero li copio però non sono mai bello bellissimo non lo so a novità propria poi dai cinesi ho preso a 0,99 luna saliettine multi usi e saliettine struccati facchi da 40 saliettine questi non sono 70 comunque 0,99 è regalato sempre a 0,99 ho preso questo antistress 2 in 1 nutrizioni e profumo l'aria vaniglia e gesso mino della dea è molto buono sempre 0,99 poi il ragione sempre saliettine quando è saliettine intime 1 euro e 25 poi ho preso le pile della electo d a 1 euro e 50 quelle AA poi i rasoi 3,99 questo qui della wiki's new world sono 6 pezzi poi l'exelence cream che ho fatto vedere prima quello che ho comprato io l'exelence cream della l'oreal l'ho pagato 7,49 quindi 1 euro di differenza tra i cinesi poi acqua alle rose acqua micellare 4,90 e tonico acqua alle rose 2,99 ultimamente ho preso anche la crema mi piace molto ho anche lo stucco antiocchi io che ho una pelle sensibile mista grassa allergica sono perfetti ve li consiglio non mi danno nessun tipo di reazione poi l'exceline attività ho finito passiamo all'ordine di Kiko che mi ha ordinato ieri mi è arrivato qui sul sito perché nello store dove mi trovo io non c'è mai quello che cerco arriva tutto in fatti statissimi in questa pluriball con la loro carta con il loro logo il riepillero dell'ordine però non ci sono i prezzi quindi non so come ho messo non so se mi ricordo dati stavolta non ho preso tante cose nel reparto prezzi speciali ma ho preso quattro cosine che in teoria ero solo per la lettina che vi faccio vedere adesso questa mi sembra 12,95 si chiamano le smart palette se riesco a aprirla senza romperla mi sarebbe molto molto più facile questa qui la smart palette si vede anche voi ciao ho preso quella dai toni rosati che sul sito era molto carina vedete ha lo specchio tutti i toni neutri e rosati spero di sì che lo abbassassi per i toni rosati e il suo pennellino spero davvero che siano rosati perché non ho trovato un'altra palette che posso usare io mi hanno consigliato della makeup revolution ma non mi fido molto a ordinare la makeup revolution e non riesco a trovarla venuta qui dove abito poi poi a 2 euro non mi ricordo della linea free soul makeup blender questa blender appunto fatta così era in offerta a 2 euro ho fatto un po' di decluttering delle spugne e mi sono appesa questa che è molto dura la proveremo comunque sul sito è di prezzi speciali a 2 euro questa blender qui poi ho preso 5,95 può essere non mi ricordo questo panno struccante che praticamente panno struccante lavare massimo 50 gradi se praticamente strucca il viso solo bagnandolo con l'acqua ha la sua pratica pochettina mi ispirava un sacco come ultima cosa ho preso questi patch il packaging è fantastico questi patch occhi you are gold eye con l'effetto che in un video di analisa sul testare che saluto lei parlava di questi patch occhi per la zona del contorno occhi degli occhiali che è molto evidenti io non li ho molto evidenti ma è proprio la conformazione dell'occhio che lo rende molto scavato questi mi sembra 3 euro 4 euro non mi ricordo però se andate a vedere sul sito di Kiko non ve lo posso far vedere perché non ho linea internet non ho linea telefonica e niente questo era il il mio piccolo haul spero vi sia piaciuto perdonate la faccia ma il mal di testa mi sta uccidendo lasciate un like e un commentino su quello che avete comprato perché sono sempre molto curiosa iscrivetevi al canale per supportarmi e mando un grosso basso e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti